Parlare della propria salute mentale al lavoro è un segno di debolezza. Non sono proprio d'accordo. Ciao, mi chiamo Sofì e oggi vorrei spiegarvi perché aprirsi sul benessere mentale in azienda è un grande segno di maturità. Ma prima vi presento Rose. Rose Salì! Rose è il primo e unico cane di assistenza psichiatrica certificato ADI in Italia. Grazie a lei sono riuscita a frequentare l'università e anche adesso la tesi in azienda qui a Milano. Se non l'avessi detto alla mia dattrice di lavoro questo non mi sarebbe mai stato permesso. Quindi questo è un primo esempio per il quale è stato necessario per me parlare della mia salute mentale. Inoltre porta gioia e amore a tutte le colleghe. Il benessere dell'azienda ne risente positivamente. Vorrei aggiungere facendo parte di un progetto che si occupa proprio di salute mentale le mie colleghe hanno apprezzato molto i consigli che sono riuscita a dare loro grazie proprio alla mia esperienza personale più che tecnica che magari ero più in difetto rispetto a loro che erano già anni che lavoravano in azienda. Quindi ogni persona con la propria storia può essere un elemento importante dell'azienda unico, diverso ma altrettanto importante.